Con gesti precisi e sicuri danno vita imponenti sculture dal travertino nella cornice della campagna toscana. 12 artisti provenienti da altrettanti paesi, tra cui Spagna, Armenia, Iran e Giappone, lavorano insieme a Cavriglia in occasione del simposio internazionale Pietra Sublime, giunto alla seconda edizione dedicata alla memoria delle vittime di Covid nel mondo. Che guarda al futuro, che guarda con speranza al futuro, ma che tuttavia non si dimentica di ciò che abbiamo passato in questo anno e mezzo. Un anno e mezzo di sofferenza, davvero di grandi rinunce. E quindi abbiamo pensato questa iniziativa di dedicarla a tutte le vittime del Covid italiane e mondiali. Il parco di Bello Sguardo sorge su un'ex area mineraria trasformata in uno dei più grandi parchi fotovoltaici d'Italia. A questi riporti di terra, che tra l'altro hanno fatto sparire anche dei villaggi interi, di case, abitazioni, io li ho voluti riportare in questo movimento organico, cioè come dei cuscini che si soprammettano come la terra è stata qui. Queste pietre stanno lentamente prendendo forma, grazie alle abili mani di questi artisti. Sono arrivati qui nel cuore della Toscana da molti paesi diversi, per lasciare un messaggio di amore e rispetto per tutte le vittime del Covid nel mondo. Quest'anno il simposio è stato dedicato al Covid, alla memoria di questo tempo che abbiamo passato tutti quanti. E secondo me questo messaggio della sintonia è molto attuale. È uomo e donna che fanno un viso solo. Il nostro lavoro richiama il dolore che il mondo sta vivendo in questo momento, come cambia la superficie delle persone in base a quello che succede intorno a loro. Scultura quindi come strumento di bellezza, dialogo tra i popoli e rinascita dopo la pandemia. L'area diventerà un immenso parco d'arte dedicato alle vittime del Covid.